Il naufrago che deve abbandonare la playa è Fabio! Fabio ci ritiamo! È quello che ho detto prima Cioè? Perché prima quando Fabio era in nomination contro Natalie non è stato scelto Fabio come concorrente che doveva rimanere Ma proprio perché hanno voluto punire Natalie e si è dimostrato quando il gioco si è fatto più duro Che Fabio che tra l'altro è stato un concorrente bravissimo, veramente l'ho amato tantissimo Purtroppo non era il concorrente forte Anche perché erano proprio vicini vicini con Natalie Allora Fabio sei l'eliminato di questa sera Alessandra Scoppiata! Che te devo dire? Che te vado un attimo da lui, scusa Amore ciao Ciao tesoro Porta Forza mi raccomando Te la curo io Fabio! No! Te la curo io! No! Ci penso io! Ma che penso mia amica! Alessandra secondo me hai tutta la forza, tutto il carattere per continuare a rimanere da sola anche senza il tuo Fabio Vai avanti eh Di aperto io! �ro No! Chiara scoppiata! Le racconto! 다 ve